ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo volevo subito ricordare che questi sono degli interattivi e come tali adottate ciò che le carte vi comunicano alla vostra situazione attuale e al vostro settore di interesse che esso sia amore lavoro fortuna famiglia o personale i video hanno validità dal momento in cui se ne prende visione anche se la data di pubblicazione è già superata dal momento in cui si prende visione tranne quelli che hanno riferimenti o date a un periodo specifico per i video sullo zodiaco il mio consiglio è di ascoltare anche il tuo scendente il segno dove si trova la luna nel tuo tema natale per tutto ciò che riguarda le tue emozioni le intuizioni e ciò che senti dentro di te il segno in cui si trova giove per il lavoro il denaro la carriera le ambizioni gli obiettivi e ciò che si realizza in maniera concreta il segno in cui si trova venere per la famiglia l'amore i rapporti con le persone sia quella che quelle che già conosci sia per quelle che conoscerai si eseguono rituali di purificazione energetica contro malocchio negatività invidi e gelosie con stampa digitale personalizzata da scaricare gratuitamente stampare le letture di cartomanzia personalizzata ricerca e spiegazione del proprio numero personale numero del destino attraverso la data di nascita ed il nome per sapere il tuo scopo in questa esistenza evolutiva dell'anima e cosa significa il colore della tua aura e quali benefici porta alla tua persona attivazione delle rune magiche per ogni vostra esigenza con possibile stampa digitale su richiesta da scaricare gratuitamente e stampare per ricevere tutte le info necessarie e procedere a come fare per avere tutto ciò di cui si ha bisogno sotto ogni video trovate i miei contatti numero whatsapp solo messaggi e indirizzo e mail vi ricordo che tutti i servizi da me offerti sono su prenotazione grazie per l'attenzione vi lascio alla visione del video benvenuti e bentornati in questo messaggio dei tarocchi per voi di questa giornata il video è valido dal momento in cui lo andate a vedere e per il giorno in cui lo andate a vedere allora andiamo subito a vedere qual è il messaggio di oggi iniziamo con vedere appunto qual è la carta dei tarocchi che esce per te in questa giornata andremo a vedere i vari significati e cosa ti vuole dire per il giorno vediamo un po per la giornata di oggi qual è il messaggio dei dei tarocchi allora oggi abbiamo una bellissima regina di coppe e andiamo subito a vedere sia il significato che la simbologia della nostra carta per quanto riguarda questa bellissima regina di coppe vi ricordo che sopra impressione sotto il video trovate i miei riferimenti per contattarmi e chiedermi informazioni per avere un consulto privato con me per avere informazioni allora la regina di coppe è amorevolezza ed empatia amore sentimenti e compassione questi sono solo alcuni dei attributi tipicamente associati a questa carta maturità empatia e maternità allora nella giornata di oggi per quanto riguarda la maturità comprendi appieno l'importanza dei sacrifici che saresti capace di fare i cambiamenti che saresti in grado di compiere e i rischi che oseresti affrontare onori e onori sono in perfetto equilibrio non si non ti inorgogliscono i primi e non ti turbano i secondi mantenere l'equilibrio tra ideali e realtà è importante per poter preservare il tuo senso di individualità in amore tutto sta andando alla grande per quanto riguarda la tua relazione attuale l'armonia la comprensione e la comunicazione sono essenziali per continuare ad andare avanti i single sono ora spiritualmente preparati per passare a un'altra relazione oggi al lavoro darai e riceverai consigli spassionati e imponderati non è il momento di essere egoisti ma di supportare i tuoi colleghi neoassunti o in difficoltà condividendo le conoscenze che hai acquisito pensando a se stessi lo scopo della tua vita è la maturazione dell'anima non cercare di acquisire proprietà o posizioni sociali questi sono beni illusori che non appagheranno mai un animo che non sia aggiunto alla piena maturità il simbolo il simbolo su cui riflettere oggi è la corona indica una persona illuminata che ha fatto della propria mente un veicolo di interconnessione tra emozione e ragione tra cielo e terra raggiungendo una sapienza che nulla potrà sminuire né il tempo né gli eventi negativi empatia sei in grado di sintonizzarti facilmente sulle tue emozioni grazie a questo hai sviluppato una grande capacità empatica che ti permette di aiutare le persone intorno a te e dare un senso alle cose in modo sensibile e e compassionevole sei un porto sicuro e un faro di luce per le persone a te care il tuo calore genuino e premuroso unito alla tua calma e coerenza emotiva fa sì che le persone che soffrono si avvicinino a te per essere metaforicamente abbracciate ricordati tuttavia di non lasciarti sopraffare emotivamente la tua empatia e la capacità di metterti nei panni degli altri sono solo non sono non solo ti hanno aiutato ad attirare i clienti ma anche a creare uno spazio di lavoro in cui regnano la collaborazione e il cameratismo continua in questa direzione e presto potresti ottenere una promozione un cambiamento significativo nella tua carriera ha il raro talento di immedesimarti in altre prospettive per questo hai sviluppato una sana curiosità verso l'altro affinando le tue capacità di ascolto anche nei confronti delle tue stesse emozioni riuscendo a decifrarle con amorevole calma per questo motivo non ami mettere confini tra te e gli altri tuttavia questo talvolta va fatto il simbolo su cui meditare oggi è l'abito d'argento come uno specchio che riflette le profondità nascoste degli altri in modo che possano vedere i propri misteri così il tuo animo è capace di rispecchiare empaticamente le anime delle persone che incontra maternità la tua presenza è avvolgente calda ti rapporti al mondo e agli altri attraverso i sentimenti che esprimi in abbondanza con i gesti le parole d'amore e dell'affetto sei o diventerai in modo del tutto naturale un ottimo genitore questa è una tua caratteristica innata che si esprime nel sentimento di tenerezza protezione sensibilità e guida che provi indistintamente verso tutti gli esseri viventi questo istinto ti porta anche a essere un partner attento e premuroso fida di dei tuoi consiglieri e stabilisci con loro delle nuove alleanze soprattutto se sono donne mature guidali con il tuo cuore perdona e abbandona ogni risentimento in questo modo tutti i tuoi sforzi avranno successo e ci sarà un momento significativo del tuo reddito e dei tuoi profitti il senso di amorevolezza materna che alberga nel tuo cuore un sentimento tanto gentile tanto forte di una forza che potrebbe contribuire a salvare il mondo anche fosse solo il tuo piccolo mondo circostante con esempi di compostezza equilibrio e civiltà non serve essere eroi basta che tu sia genuina genuinamente te stesso i simboli su cui ragionare oggi sono i pesci conchiglie e ninfè tutti questi simboli alludono alla nascita di venere la dea della fertilità della bellezza e dell'amore tutto in te è vita tutto quello a cui ti avvicini trasuda bellezza e grazia le emozioni si schiudono dolcemente davanti a te con fiducia innocente e scusatemi per quanto riguarda la luce e il lampeggiare ma penso che la mia lampada stia andando perdonate se da un po fastidio allora questo è il primo messaggio per quanto riguarda le carte dei tarocchi andiamo a vedere adesso cosa ci dice quest'altro mazzo di oracoli che riguarda appunto il potere delle idee vediamo qual è la dea di oggi per voi vediamo un po quale idea viene fuori oggi la dea della potenzialità molto bella anche questa dei abbiamo potenziale emotivo e amorevole oggi è potenzialità la dea numero 9 vediamo se c'è ri c'è ri win penso si chiami andiamo a vedere il messaggio di allineamento quando di adegui nella tua comfort zone corri il rischio di non poterti più spingere al di là di dove già ti trovi il tuo potenziale autentico resta dormiente inaccessibile ciò potrebbe manifestarsi come un vago senso di noia o di invidia per gli altri oppure come un'ansia accompagnata da un senso di bassa autostima rinforzata dall'abitudine e dall'incapacità di credere che la vita possa essere un'esperienza straordinaria anche per te e non solo per gli altri in molti casi è il risultato di un'educazione repressiva e conformista che si tramanda da generazioni la dea è qui per ricordarti che è tempo di agire nel modo corretto il tuo compito di allineamento è innescare un cambiamento rinunciando ai giudizi verso te o altri e rinnovando quei sogni che sembri avere smarrito mettili nero su bianco e dichiara le tue intenzioni poi punta lo sguardo verso uno specchio immaginando di scrutare nel carderone trasformativo di della dea e pronuncia i tuoi sogni ad alta voce come se si fossero già materializzati sei molto più di quanto ti concedi di essere il processo di crescita sarà solo a tuo vantaggio i tuoi sogni i tuoi desideri più preziosi sono importanti per la divinità il cammino è semplice ma profondo devi solo dire sì con gratitudine nel tuo cuore e la dea ti guiderà alla scoperta del tuo bene supremo cerchiamo di lanciarci in questa giornata in base alle vostre idee alle vostre situazioni lanciatevi senza avere pregiudizi lanciatevi senza avere paure vediamo che cosa ci dice la carta della felicità per oggi vediamo di che cosa parliamo con la carta della felicità vediamo allora ho i super sensi i cinque sensi sono il super filtro tra te e il mondo esterno prova ad utilizzarli con consapevolezza senti il contatto della stoffa sotto sotto scusate il contatto della stoffa sulla tua pelle guarda d'intorno osserva lo spazio assapora un chicco di uvetta ascolta a occhi chiusi concentrati su un odore o un profumo fai ognuna di queste cose per due minuti sarai meno soggetto a lasciarti andare al flusso incontrollato dei pensieri perciò facciamo attenzione a quello che oggi ci dicono i nostri sensi andiamo a vedere con l'oracolo dei colori che tantissimo che non lo uso vediamo che cosa ci dice l'oracolo dei colori per voi oggi ne andiamo a prendere uno abbiamo coppe guardate un po coppe e coppe questo è il cavaliere di coppe allora il verde indica sicurezza gioia cura e amore il rosa fortifica tutte le doti del verde ma potrebbe anche renderle più vulnerabili e iperattive il rosa le stesse peculiarità del verde ma a un livello spirituale molto più elevato sei una persona molto aperta a livello emozionale che conosce sperimenta tutto ciò che accade più e più volte con un impegno totale non si perde una sola vibrazione dei sentimenti comprende il significato di bene e male senza confonderli perciò oggi a tutto spiano con i nostri sensi cari amici è proprio con i sensi perché anche la carta della regina di coppe ci fa capire che dobbiamo dare spazio a quello che sentiamo spazio a quello che percepiamo che adesso ci prendiamo una di queste bellissime carte e vediamo quale viene fuori per la giornata di oggi vediamo che cosa ci vuol dire guardate qui abbiamo le lettere perciò la lettera significa che ci sono dei messaggi in arrivo oggi facciamo attenzione quando arriva questo messaggio a quello che percepiamo proprio sotto pelle all'emozione che ci dà appunto sotto la pelle e andiamo appunto a capire magari a leggere fra le righe ecco se un messaggio non è chiaro cerchiamo di leggerlo fra le righe messaggio lettere significa anche adesso che siamo inondati da questi social significa anche come dire un messaggio un email anche una lettera potrebbe essere oppure una telefonata adesso andiamo a vedere dal libro delle risposte di akasha oggi è esattamente il 20 settembre quando state vedendo questo video ma non ha importanza il giorno in sé ha importanza il messaggio la legge di attrazione insegna che il simile attrae il simile per questo metto il mio focus sulla felicità sul successo e sulla libertà ed è questo che voi andrete ad attrarre oggi per finire voglio leggervi un messaggio per quanto riguarda il libro dell'oracolo vediamo qual è il vostro messaggio di oggi allora non perderti in continui ripensamenti la perfezione non esiste e dunque è molto meglio muoversi con decisione dove si vede uno spiraio di luce piuttosto che restare al buio e continuare a fare i piccoli movimenti insignificanti abbandonarsi all'indecisione è come rinunciare in partenza perciò non facciamo troppo gli indecisi ma cerchiamo di muoverci come appunto diceva la nostra stesa di oggi bene cari amici e cari amiche io vi ricordo che sopra impressione sotto il video trovate i miei contatti qualora voleste informazioni per tutto ciò che riguarda i pacchetti che offro io vi ringrazio per aver visto il video vi aspetto volentieri nei commenti e ci vediamo se tutto va bene al messaggio di domani